Nel tardo pomeriggio di mercoledì a Gela gli agenti di polizia del locale commissariato su disposizione della centrale operativa sono intervenuti in via Bogotà per un incendio di un portoncino di ingresso di un'abitazione appartenente al disoccupato gelese VF di 56 anni. Gli agenti intervenuti sul posto hanno immediatamente contattato il proprietario che ha subito riferito che poco prima di rientrare a casa con la sua famiglia aveva effettivamente notato un principio di incendio che lo stesso disoccupato ha prontamente spento. Fortunatamente le fiamme non hanno provocato danni all'interno dell'abitazione. Il 56 anni gelese ha inoltre riferito di non aver subito minacce o intimidazioni. A Niscemi invece gli agenti indagano su un incendio di un'autovettura per causa ancora da accertare avvenuto nella nottata di mercoledì di proprietà di LE di 40 anni. Le fiamme spente prontamente dai vigili del fuoco hanno causato danni ancora in corso di quantificazione.